Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo i figli antichi romani, in modo da una ricetta dalla De Re Rustica di Columella, scritta nel primo secolo. Iniziamo con gli ingredienti. Potremmo i figli, lecine, lecine, lecine e lecine, 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 lecine e lecine. Ci sono molti ricette per preservare i figli antichi romani, essendo i figli un frutto molto importante tra le popolazioni mediterranei. Columella suggerisce per un'altra ricetta di usare figli non completamente maturi o non ripi. Prima tagliamo in mezzo i figli e lasciamo lecine. La ricetta specifica che i figli devono essere secoli un pochino, non completamente, quindi lasciamo secoli nella scena per meno di un giorno, perché era davvero caldo, inoltre di essere settembre. Ma se la temperatura non è troppo alta o c'è una alta umidità, lasciamo secoli in tutto il sole per tutto il giorno. I libri antichi romani sono lecine di informazioni, non solo sull'agricoltura e l'agricoltura, ma anche su come preservare i figli e frutta, preparare il vino e l'olio e preservare la carne. Abbiamo trovato molte ricette per i figli non solo nel libro Columella, ma anche nel Palladio, opus agricoltura. Scritto nel IV secolo, trovate più informazioni su figli in Roma antica, sulla nostra pagina Patreon. Nel ultimo abbiamo usato Katos, l'agricoltura, per preparare un'oliva preserva e un epitirum. Trovate il link alla ricetta nella descrizione qui sotto. Quando i figli hanno secoli un pochino, ma sono ancora tanti, li spavano nel mortaio. Romani avevano a disposizione molti tipi di figli. Columella descrive rosa, giallo e bianche varietà. Plini menziona 29 tipi diversi nella sua storia naturalistica. Sono molto apprezzati nella Roma antica e in Grecia, e normalmente sono stati apprezzati alla fine del mattino, con gli altri piatti della seconda domanda. Salute, frutti secchi e freschi, cheese e legumi. Galen, in cui è il Facultatibus Alimentorum, menziona una salata di figli assicurata con garum, salto e vinaglio. Poi tostiamo le salle di sesame. Le salle di sesame sono molto comuni nelle ricette antiche greche, rarissime nelle preparazioni dell'antica Roma, ma, secondo Plini, erano parte delle ricette di summer. Il sesame viene dall'India, Plini scrive, e è usato per preparare l'olio. Ci sono molti dolci preparati con le salle di sesame, che le ricette sono ricette in Ateneus e gli Epinosopisti, come una che abbiamo preparato qualche settimana, chiamata Gastris. Trovate il link al video nella descrizione sotto. Troviamo il mortaio, le spezie e le salle di sesame. L'autore non è specificato per trovarci le spezie e le salle di sesame, e le aggiungiamo con la pasta di figli. In ogni caso, vi suggeriamo di mixarli bene, di distribuire le salle in pasta semplicemente. Se seguite il nostro metodo, la pasta di figli le salle saranno più veloce e meglio, e le salle saranno più balancedi e aggiungi. Poi mixiamo tutti gli ingredienti. Le spezie mediterranei sono un caratteristico importante dell'antica romana e grega. Troviamo le salle usate più che le spezie, in realtà, excepto per il pepe, sono abbastanza rari nelle ricette. L'anese, fennel e il cumin sono tra i più usati da Columella e altri autori. Trovete più informazioni sulle spezie mediterranei nell'antica Roma, nella nostra pagina di Patreon. In questo caso, le spezie sono usate per dare complessità alla pasta di figli. Vi suggeriamo di usare in moderazione, non di overpowerire il sapore principale, che deve essere il sapore dei figli. Aggiungiamo una cucina di pasta in ogni leaf di figli e ripetiamo, aggiungendo la quantità di pasta di figli alla dimensione del leaf. L'autore suggerisce di tagliare le foglie con ricette o erbe e posizionali per securare tutti i latici, fino a ripetarli. Poi, posizionali le foglie in un vasso per preservarli. Se preferite, puoi passare questo passo. passaggio. Un metodo differente, descritto da Columella, consiste in aggiungere un vasso terracotta con questa pasta e posizionali in un vasso. Quando hai bisogno di usare la pasta, bruciate il vasso e estrati la pasta. Usa il metodo che preferite per securare la pasta di figli. esposionali nel sole, bruciate nell'ovno, a low heat, o usate un luogo per alimenti. potete preservare questa pasta di figli in stessa modo come i figli. Restare le foglie in un posto caldo senza umidità e usatele tra sei o sette mesi. ora lasciamo la pasta di figli in un vasso securato completamente. Il sapore è sorprendentemente buono e additivo. Questo sapore sento delizioso e ha un sapore completamente diverso da i figli di figli in un vasso securato. Ci sono diversi strumenti di sapore quando lo mangiate. Prima ti senti la fragranza del cammino che rompe la dolcezza dei figli. immediatamente dopo senti il sapore complesso di sapore di sapore securato, in fine nel tuo cuore resta l'aroma dolce di fennel e d'anese. Probabilmente un dolce di essere preparato ogni anno nei giorni del sapore di figli. se siete interessati in alimenti e sabori antichi o siete solo cercando delle ricette inusuali e deliziali, iscrivetevi al nostro canale e considerate di supportare noi sul Patreon, dove troverete una volta una settimana un nuovo articolo sul cuore storico e una volta un mese una storia storica tradizionata in inglese. Grazie a tutti! Grazie a tutti!